Nella discussione votazione sulla rendicontazione regionale 2023 non tutti hanno votato a favore, tra questi la consigliera della Regione Marche in quota PD, Michela Vitri, che ha sollevato due motivazioni in particolare, quella dei troppi gettonisti nella sanità e degli affidamenti ATIM. Ho votato contrariamente alla rendicontazione del bilancio regionale principalmente per due motivi. Le esternazionalizzazioni massicce nella sanità e gli affidi diretti, circa 8 milioni nel turismo. Per ciò che riguarda proprio i cosiddetti medici e infermieri gettonisti, il problema nel 2023 è esploso nella nostra regione per una gestione fallimentare, tanto che si è passati da 4 milioni per gettonisti nel 2022 ad oltre 20 milioni nel 2023. E la AST di Pesaro Orbino è stata una di quelle che ha speso di più in privati, tanto che nella nostra provincia sono stati spesi in gettonisti 6 milioni 600 mila euro circa, che è una delle cifre più alte in tutte le Marche. Di questi in particolare una gran parte è andata per i medici del pronto soccorso, circa 1 milione e 7 a Pesaro e circa 1 milione e 6 al pronto soccorso di Urbino. Ciò significa che molti medici o pensionati o privatisti si sono trovati a lavorare con i dipendenti pubblici guadagnando il triplo e non avendo le loro condizioni, quindi turni a volte massacranti, stipendi nettamente inferiori, causando anche una disparità di condizioni all'interno delle strutture sanitarie. Questo è uno dei motivi, ma le privatizzazioni non sono avvenute solo nella sanità ma anche nel turismo. Tanto che il presidente Acquaroli con una legge regionale il 13 dicembre 2021 ha voluto addirittura creare un nuovo ente, l'Agenzia Turismo Internazionalizzazione delle Marche, l'ATIM. E abbiamo scoperto che da allora dovevano lavorarci 12 persone, invece in quegli uffici presi in affitto nella sede della Camera di Commercio di Ancona non ha mai lavorato nessuno. E soprattutto da allora ad oggi sono stati fatti solo affidi diretti. Alcuni destano parecchie perplessità e quindi stiamo chiedendo al presidente Acquaroli ripetutamente di chiarire come sono avvenuti questi affidi diretti. In merito ai gettonisti si solleva quindi la questione del perché quei fondi non siano stati destinati alle assunzioni anziché essere stanziati a privati del settore. Questo è quello che ha detto esattamente la Corte dei Conti nella sua relazione a fine settembre tanto che avanza delle proposte alla giunta Acquaroli perché il problema non è solo la carenza di medici, non sono tutti andati in pensione ma anzi tra quelli in prepensionamento, quelli scappati a lavorare in regioni vicine o all'estero c'è una bella differenza e la Corte dei Conti chiede alla regione di ridurre la spesa nelle esternazionalizzazioni, nelle cooperative, quindi nei privati ma aumentare invece gli incentivi ovvero i contributi per medici e infermieri che per esempio possono avere un compenso aggiuntivo per orari e turni straordinari. Una proposta importante arriva addirittura anche dagli stessi infermieri che chiedono ad esempio, e io l'ho fatto presente in aula al Presidente Acquaroli di defiscalizzare i turni notturni. Sarebbe già anche questo un piccolo incentivo. Nelle Marche non si sta facendo nulla per trattenere il personale sanitario che sta scappando ovunque pur di non lavorare qui ormai. Grazie. Grazie.